Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di AIG di Milano. Passata la settimana delle banche centrali, l'ottava corrente dominata dalle attese degli investitori sull'esito del meeting informale dell'OPEC in Algeria durante il forum internazionale dell'energia. Secondo state delle negoziazioni con l'Iran per convincere proprio il governo di Teheran ad avvicinarsi alle posizioni degli altri membri dell'OPEC favorevoli a un congelamento della produzione. Noi crediamo che la debolezza del dollaro e i problemi alla produzione in Libia per il controllo delle piattaforme petrolifere di Ras Lanouf dovrebbero attenuare le pressioni sui membri OPEC per siglare un accordo nel brevissimo periodo. La riunione ad Algeri, come già le trattative di Doha, dovrebbe concludersi con un nulla di fatto. Ci aspettiamo quindi che i corsi dell'oro nero rimarranno nel trading range 43,50 dollari al barile, ancora per tanto tempo. Dal punto di vista macroeconomico la settimana non è particolarmente ricca di dati. Dagli Stati Uniti attenzione agli ordini di beni durevoli, le vendite al dettaglio e la stima finale sul PIL del secondo trimestre, ma soprattutto nei confronti del primo dibattito Clinton-Trump in vista delle presidenziali di novembre. Da un punto di vista tecnico invece l'andamento del cambio euro-dollaro è stato contenuto negli ultimi giorni in un triangolo. Dopo aver testato il limite inferiore della configurazione possibile il raggiungimento di quello superiore. Una vittoria al di sopra della resistenza a 1,12,50 getterebbe le basi per un allungo in direzione di 1,13. Discorso diverso in caso di cedimento di 1,12, preludio a un ritorno verso 1,11,50. Il cambio dollaro-yen continua ad avvicinarsi al supporto strategico di lungo periodo posizionato a 1,99,50. L'eventuale cedimento di tale sostegno darebbe ulteriore forza alle pressioni ribassiste creando i presupposti per un'estensione della discesa verso i target a 1,96. Segnali di crescita solo sopra 102. Il Brent non ha evidenziato particolare volatilità dopo i forti movimenti registrati a luglio e agosto. Una violazione a ribasso dei supporti a 45 dollari sarà la condizione che permetterà ai prezzi di scendere verso 42. Indicazioni positive giungeranno invece con una vittoria di 48,50 per obiettivi a 50 dollari. Con questo è proprio tutto. Buon trading!